Un centralino a Venezia, tre appartamenti a Pescara e Montesilvano, annunci sui giornali locali con immagini inequivocabili e offerta di massaggi. Un giro di sfruttamento della prostituzione gestito da cinesi che è stato scoperto dalla squadra mobile di Pescara in collaborazione con i colleghi di altre questure. Fondamentali le rivelazioni di una delle giovani prostitute che con l'aiuto della polizia si è affrancata dal gioco dei suoi aguzzini. Nel corso di un blitz è stata immediata la collaborazione che abbiamo ricevuto da questa donna che abbiamo trovato all'interno dell'appartamento e che ci ha poi consentito di sviluppare il resto delle indagini. È un'organizzazione piramidale al cui vertice c'era il capo che era una donna la quale poi disponeva tutto quello che riguardava l'aspetto logistico rispondendo alle chiamate dei clienti e smistandoli sulle varie case di prostituzione che avevano attive non solo in Abruzzo e segnatamente a Pescara e Montesilvano ma anche in altre città italiane. Il GIP del Tribunale di Pescara su richiesta del PM che ha diretto le indagini ha emesso ordinanze di custodia cautelare in carcere per tre uomini e tre donne tutti di nazionalità cinese e con regolare permesso di soggiorno. Il sesso low cost perlomeno negli appartamenti è sicuro appannaggio dei cinesi. La stessa idea che hanno dell'operaio dedito al lavoro nelle fabbriche e negli opifici l'hanno trasfusa in questo tipo di attività ovviamente illegale. Quindi c'era una disponibilità H24 anche di notte delle prostitute e c'era un'accettazione anche della tariffa più bassa che spesso i clienti contrattavano anche se già di per sé erano particolarmente economiche.